Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video qualcuno che spunta dietro niente, abbiamo deciso che adesso facciamo l'albero e quindi, la felicità di qualcuno, mamma mia, lo voleva fare una settimana fa esatto, io lo volevo lo voleva fare una settimana fa, eccolo qua colpevole beh, in realtà oggi è il 20... no, il 30 novembre il 30 novembre facciamo l'albero anticipiamo perché l'otto lui lavora, quindi solitamente lo facevamo l'otto poi a volte anche un pochino, prima dipendeva un pochino perché solitamente per il suo compleanno che è il 10 l'albero deve essere fatto quindi, questo è il soggiorno che cambierà perché per fare l'albero dobbiamo spostare anche il tavolo che purtroppo il tavolo è un bellissimo tavolo perché è veramente bellissimo però è un pezzo unico di conseguenza è rettangolare e l'albero che va in quel punto lì occupa comunque parecchio spazio è un bel albero largo e quindi non ci sarebbe poi il passaggio allora il tavolo verrà spostato da questa parte tanto noi il tavolo di sala lo utilizziamo solo quando abbiamo ospiti quindi in quel caso poi noi ce lo mettiamo centri alzo, ma lo gestiamo ecco, quindi in giro è tutto normale metterò anche qualche decorazione ma niente di che perché col tempo sono diventata minimalista anche sulle decorazioni perché essendo che lo facciamo presto l'albero a lungo andare poi mi stufano quindi abbastanza essenziale però comunque con l'atmosfera a lungo andare poi mi stufano 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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